Che idea vi siete fatti? Chi sta facendo questi furti e perché? Qual è la vostra opinione? Non abbiamo idea, non abbiamo idea. Io penso che sia comunque una questione generale di disagio. Anche io non viassimo chi fa queste cose, probabilmente le fa per necessità, però lo fa comunque a discapito di chi la mattina si sveglia, va a lavorare, paga le tasse. Si è creato sempre un'attività facendo dei sacrifici.